Salvatore nostro Gesù che sei il medico divino che guarisce le piaghe dell'anima e quelle del corpo ti raccomando il caro infermo che giace sul letto del dolore. Salvatore nostro Gesù Salvatore nostro Gesù che sempre pietoso verso le umane miserie sanasti ogni sorta di infermità muoviti a compassione del caro infermo che giace sul letto del dolore. Salvatore nostro Gesù Per i mei, il tuo sangue preziosissimo, liberalo dalla presente infermità. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Salvatore nostro Gesù Tu che hai detto venite a me voi tutti che siete afflitti e io vi ristorerò ripeti al caro infermo le parole che ascoltarono tanti malati dalla tua bocca Sorgi e cammina Affinché per i mei del tuo sangue preziosissimo possa subito correre ai piedi del tuo altare a sciogliere il cantico di ringraziamento Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen Maria saluta degli infermi prega per questo caro infermo Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Grazie a tutti